Non dimentichiamoci che insomma Donnarumma non è al primo rigore parato, poi vedremo il dato esatto, ricordiamo anche che ha parato un rigore fondamentale, importantissimo a Dybala nella finale di Supercoppa a Doha, quindi insomma non è la prima volta che Donnarumma fa delle imprese, avevamo ricordato anche il rigore parato a Belotti nella prima partita di campionato, quindi insomma veramente un giocatore, un portiere straordinario considerando che ha compiuto 18 anni da poco, 19 anni da poco, quindi è veramente un giocatore straordinario, 18 confermiamo, sì. Sì, non so se li ha già compiuti ma insomma comunque se non li ha compiuti dovrebbe essere compiuti 18 anni, quindi davvero un giocatore molto ma molto promettente. Allora avevi ragione sui 18 anni perché Donnarumma a febbraio farà 18 anni, non ancora li ha fatti, io purtroppo mi confondo sempre tra Donnarumma e Verstappen che seguono la Formula 1 e ci sono questi giovani rampanti e Verstappen li ha fatti 18 anni, Donnarumma no, vi domanderete tutti cosa c'entra però insomma un po' di confusione la facciamo anche noi, palla in avanti verso Abate che la recupera, viene però marcato, Torino concentratissimo.